Buongiorno a tutti, fratelli e sorelle, grande famiglia. Oggi, 2 novembre, siamo invitati a questo ricordo delle anime dei nostri cari defunti che non sono più in carne ed ossa in mezzo a noi, ma sono presenti nello spirito. E noi oggi, ma non solo oggi, preghiamo per le anime del Purgatorio perché il Signore manifesti la sua misericordia e il suo perdono e apria a tutti le porte del Paradiso. Oggi non posso non pensare a quanti piangono dei dolori forti, perlutti particolari. Ho dinanzi a me le mail, i messaggi o persone che conosco che hanno perso dei figli in incidenti stradali o per malattie o per tragedie. Hanno perso delle persone care ancora in giovane età a seguito di incidenti, di malattie o di tragedie. Ma sempre un lutto colpisce il cuore perché, umanamente parlando, non c'è una parola sulla morte. Solo la fede ci apre alla speranza e ci fa dire che la morte è un passaggio. E allora, ecco, oggi voglio invitarvi al silenzio. A quel silenzio che ci fa meditare quanto la vita sia un dono e quanto questo dono deve essere vissuto degnamente e quanto la nostra vita deve essere spesa per amore, con amore. E soprattutto quanto tutti noi dobbiamo camminare verso il Regno dei Cieli. Uno dei salmi delle messe di questo giorno il Salmo 24 così ci invita a pregare e a sperare Ricordati, Signore, della Tua misericordia e del Tuo amore che è da sempre. Ricordati di me nella Tua misericordia per la Tua bontà, Signore. Allarga il mio cuore angosciato Liberami dagli affanni Vedi la mia povertà e la mia fatica e perdona tutti i miei peccati Proteggimi Portami in salvo che io non resti deluso perché in Te mi sono rifugiato Mi proteggano integrità e rettitudine perché in Te ho sperato E allora, fratelli e sorelle care Oggi in modo particolare Dobbiamo fare due cose Pensare che la nostra vita su questa terra non è eterna E dobbiamo pregare tutti i giorni per questo incontro con il Signore Una volta si pregava molto di più per una buona morte E poi pregare tanto per le anime dei fedeli defunti E lo facciamo insieme oggi Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen Padre nostro che sei nei Cieli sia santificato il Tuo nome Venga il Tuo regno sia fatta la Tua volontà come in cielo così in terra Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male Amen Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli Amen Angelo di Dio che sei il mio custode illumina custodisci reggi e governa me che ti fui affidato dalla pietà celeste Amen L'eterno riposo dona loro Signore e splenda ad essi la luce perpetua riposino in pace Amen Il Signore sia con voi vi benedica Dio Onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo Amen Nell'augurare a tutti una buona e santa giornata e ad abbracciarvi con grande e immenso affetto voglio ricordarvi che alle 15 qualche minuto prima faremo l'esposizione eucaristica e poi la coroncina alla Divina Misericordia oggi per i defunti e alle 17.20 il Santo Rosario per i defunti vi mando un bacio con tanto amore buona giornata